salve a tutti e ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial come avete visto nell'anteprima iniziale il tutorial che andremo a realizzare oggi è una cappa mantella questa cappa mantella io l'ho realizzata già l'anno scorso con il filato della ice yarns della linea lanabella solo che mi è stato richiesto di fare la stessa cappa invece di farla chiusa di farla aperta con le maniche e quindi adesso vi faccio vedere come realizzare la stessa cappa con lo stesso punto aperta e con le maniche comunque se voi volete andare a vedere la cappa mantella che ho fatto l'anno scorso vi lascio il link sotto e se la volete fare chiusa adesso detto ciò partiamo con il tutorial per questa cappa mantella io sto usando un filato che già avevo comunque se voi invece volete realizzare la questa cappa mantella con il filato che ho usato l'anno scorso vi lascio il link sotto che è il filato della ice yarns del filo di arianna maglia uncinetto della linea lanabella nel mio caso sto facendo una taglia m e sto usando un uncinetto numero 5 per quanto riguarda il punto è un multiplo di sé più 1 quindi io ho avviato una catenella di 60 maglie più adesso faccio una catenella aggiuntiva adesso devo fare un giro di maglie alte quindi ho fatto la catenella aggiuntiva faccio un'altra catenella una filo sull'uncinetto e vado nella mai nella catenella a fianco e realizzo una maglia alta vado a fianco e di nuovo una maglia alta e vado avanti così facendo un giro di maglie alte ho finito questo giro adesso giro il lavoro e inizio a lavorare con gli aumenti dobbiamo aumentare nella prima e l'ultima maglia quindi faccio 3 catenelle 1 2 e 3 rientro nello stesso punto e faccio un'altra maglia alta vado a fianco e faccio una maglia alta e devo fare un altro giro di maglie alte quando arriviamo alla fine del giro dobbiamo fare di nuovo un aumento comunque andate avanti e vi faccio vedere io come continuare sono arrivata sull'ultima maglia alta e come ho detto prima qui dobbiamo fare un aumento quindi entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta rientro e di nuovo una seconda maglia alta giro il lavoro dobbiamo iniziare di nuovo con 3 catenelle 1 2 e 3 e sempre rientrare fare un aumento nella stessa maglia alta dobbiamo fare un'altra maglia alta e dobbiamo continuare la lavorazione in questo modo alla fine del giro dobbiamo fare di nuovo un'altra maglia alta nella stessa maglia alta sottostante quindi dobbiamo andare avanti in questo modo e dobbiamo fare un totale di quattro giri quindi continuate in questo modo vi faccio vedere come iniziare un altro giro arrivata sull'ultima maglia alta di nuovo entro nella stessa maglia sottostante e faccio un aumento che consiste in una maglia alta sempre presa nella maglia alta sottostante e una seconda maglia alta adesso giro il lavoro e faccio un ultimo giro un totale dobbiamo fare di quattro giri di maglie alte è sempre a questo punto dobbiamo fare un aumento sulla prima e sull'ultima maglia alta quindi ho fatto le tre catenelle che la mia prima maglia alta rientro nello stesso punto e faccio una seconda maglia alta e adesso facciamo maglie alte come si presentano fino ad arrivare sull'ultima maglia alta e dobbiamo fare un ultimo aumento una volta che abbiamo finito i nostri quattro giri abbiamo fatto delle maglie alte abbiamo sempre aumentato sulla prima e sull'ultima maglia alta adesso dobbiamo continuare la lavorazione con il punto che è un e che è un multiplo di sei quindi una volta che abbiamo fatto tutto non dobbiamo lavorare più sulle due sulle asole prendere le maglie normalmente ma dobbiamo lavorare in costa avanti in costa retro quindi iniziamo sempre con tre catenelle che la nostra prima maglia alta 1 2 e 3 adesso devo lavorare solo prendendo la solina da dietro quindi vado sempre nella stessa maglia e faccio un aumento devo saltare adesso due maglie di base 1 e 2 nella terza sempre in costa retro devo fare un ventaglietto di tre maglie alte questa è la prima maglia alta una seconda maglia alta una terza maglia alta due catenelle 1 e 2 sempre in costa retro nello stesso punto 3 maglie alte 1 2 e 3 salto di nuovo due maglie di base 1 e 2 vado sulla solina da dietro e di nuovo due maglia alta e sempre prese nello stesso punto 1 e 2 salto due maglie 1 e 2 e nella terza faccio tre maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle di separazione di nuovo 3 3 maglie alte sempre nello stesso punto 1 2 e 3 e dobbiamo andare avanti con la lavorazione in questo modo quindi saltiamo due maglie di base 1 e 2 nella terza prendendo la solina da dietro facciamo due maglie alte 1 e 2 prese sempre nello stesso punto poi saltiamo di nuovo 1 e 2 e nella terza dobbiamo fare un ventaglietto di tre maglie alte separate da due catenelle quindi 1 2 e 3 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo tre maglie alte sempre prese nello stesso punto 1 2 e 3 andiamo avanti fino a terminare il giro e finiamo sempre con le due maglie alte sempre nello stesso punto una volta che ho finito tutta la lavorazione adesso devo fare un giro senza aumentare quindi devo fare solo due maglie alte e il ventaglietto come si presenta come l'ho già fatto solo che quando dobbiamo fatto quando abbiamo fatto il giro precedente che abbiamo lavorato in costa retro adesso ci troviamo a lavorare in costa avanti perché abbiamo girato il lavoro quindi devo lavorare questo giro senza fare aumenti e ogni volta lavoreremo un giro con aumenti e un giro senza aumenti e iniziamo sempre con tre catenelle che la nostra prima maglia alta come ho detto prima adesso dobbiamo lavorare sulla costina davanti quindi prendiamo solo la costina davanti e faccio una seconda maglia alta dove ho il ventaglietto lavoro sempre 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo 3 maglie alte all'interno delle due catenelle di separazione 1 2 e 3 qui di nuovo 2 maglie alte sempre in costa avanti 1 e 2 e nel ventaglietto 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3 e vado avanti fino a terminare il giro il giro il giro successivo faremo gli aumenti però andate avanti e vi faccio vedere io come continuare ho finito questo giro adesso giro il lavoro e devo fare il giro dove devo fare gli aumenti quindi inizio con 3 catenelle 1 2 e 3 e devo lavorare in costa retro entro di nuovo nello stesso punto e faccio una seconda maglia alta e vado nella maglia alta a fianco e anche qui nello stesso punto faccio 2 maglie alte adesso mi ritrovo con 4 maglie alte il ventaglietto lo lavoro sempre normalmente 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo 3 maglie alte sempre nello spazio delle due catenelle 1 2 e 3 qui abbiamo due maglie alte e prendendo le la solina da dietro nello stesso punto dobbiamo fare 2 maglie alte sulla prima maglia alta 1 e 2 vado a fianco e di nuovo sulla maglia alta 2 maglie alte 1 e 2 mi ritrovo con 4 maglie alte e il ventaglietto come si presenta vado avanti in questo modo fino a terminare tutto il giro e termino il giro con le 4 maglie alte ho finito questo giro in costa retro con gli aumenti adesso devo fare devo girare il lavoro devo fare un giro senza fare gli aumenti e devo lavorare in costa avanti quindi lavorerò le maglie come si presentano in questo caso 4 maglie alte e il ventaglietto normalmente inizio con sempre con 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta vado sulla maglia alta sottostante prendo la solina davanti solo una solina e faccio una maglia alta una terza maglia alta e a fianco una quarta maglia alta nello spazio del ventaglietto lavoro il ventaglietto con 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3 di nuovo le maglie alte come si presentano quindi prendo la solina davanti e faccio la prima maglia alta una seconda maglia alta una terza maglia alta e una quarta maglia alta e vado avanti in questo modo fino a terminare tutto il lavoro il giro successivo invece faremo sulla prima un aumento sulla prima maglia alta un aumento e anche sull'ultima maglia alta un aumento quindi poi invece di quattro maglie alte ci troveremo con sei maglie alte comunque andata avanti vi faccio vedere per l'ultima volta come fare gli aumenti come continuare una volta che ho finito il giro con le maglie alte senza aumentare adesso faccio il giro con maglie alte in costa retro e facciamo un aumento sulla prima e sull'ultima maglia alta quindi se abbiamo adesso quattro maglie alte ci troveremo con sei maglie alte iniziamo facendo la prima maglia alta che sono sostituita da 3 catenelle sempre in costa retro faccio una seconda maglia alta vado a fianco e faccio una terza maglia alta vado a fianco una quarta maglia alta e sull'ultima maglia alta faccio un aumento quindi adesso ci troviamo con 6 maglie alte il ventaglietto lo lavoriamo sempre normalmente con 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle 1 e 2 e di qui a questo punto facciamo di nuovo un aumento sulla prima maglia alta 1 e 2 e poi le maglie alte come si presentano e sull'ultima maglia alta dobbiamo fare un altro aumento dobbiamo andare avanti in questo modo con la lavorazione fino a raggiungere la larghezza che per noi va bene quindi dobbiamo fare un giro che lavoreremo in costa retro dove dobbiamo fare un aumento sulla prima e sull'ultima maglia alta il giro successivo invece dobbiamo lavorare le maglie come si presentano quindi il giro che dobbiamo fare dopo dobbiamo fare sei maglie alte e il ventaglietto normalmente il giro successivo ancora dobbiamo fare un aumento quindi da sei poi ci troveremo sulla prima fare un aumento e sull'ultima un altro aumento e andiamo avanti in questo modo fino a fare gli aumenti che per noi vanno bene per la nostra larghezza della nostra cappa mantella andata avanti in questo modo e poi vi dico quanti giri ho fatto in tutto e a quanti centimetri mi sono fermata ecco qua io sono andata avanti con gli aumenti come vedete si vedono gli aumenti fino a fare 20 giri quindi mi ritrovo con 20 maglie alte e mi sono fermata adesso continuo la lavorazione senza fare aumenti fino a superare il gomito una volta che poi ho superato il gomito faccio un piccolo polsino e continuo la lavorazione con il polsino con la manica se voi invece la volete più larga andate avanti con gli aumenti quindi invece di fermarvi a 20 continuate sempre la lavorazione un giro di aumenti e un giro senza fino a raggiungere la vostra larghezza se la volete più larga potete farlo tranquillamente io invece ho voluto questa larghezza qui quindi adesso che ho fatto tutti i miei aumenti come vedete si vedono adesso continuo la lavorazione senza aumentare quindi sempre un giro costa retro e costa avanti quindi una volta che iniziamo il giro sempre con le tre catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e faccio maglie alte come si presentano questo caso sto lavorando in costa avanti quindi lavoro le maglie come si presentano il ventaglietto così sempre con le tre maglie alte due catenelle tre maglie alte vado avanti fino a superare il gomito una volta che supero il gomito vi dico come continuare come fare come unire la parte retro con la parte avanti per formare il polsino ecco qua ve lo faccio vedere intero ho lavorato il mio la mia cappa mantella per 50 centimetri il totale in tutto dal collo fino alla fine ho lavorato altri giri senza fare aumenti nel mio caso però se voi lo volete più largo continuate la lavorazione fino a superare il gomito con gli aumenti una volta che ho raggiunto la mia larghezza l'ho provato e ho diviso la parte avanti con la parte dietro e ho formato il polsino il polsino fatto un giro ho fatto dei giri di maglie alte a rilievo avanti e maglie alte a rilievo dietro e adesso e poi ho fatto un bordino laterale che vi farò sempre vedere comunque adesso ve lo faccio vedere più da vicino una volta che avete finito voi la vostra lunghezza la vostra larghezza avete provato io ho piegato dalla parte dove ho fatto le maglie alte in rilievo le maglie alte in costa retro quindi ho diviso a metà diviso la parte avanti con la parte dietro e ho voluto mettere un motivo sulla manica e poi due motivi avanti adesso una volta che ho provato devo vedere la quanto devo fare il mio polso e io già dall'altra parte ho diviso e ho fatto una circonferenza di 32 centimetri quindi divido 16 maglie sul davanti e 16 maglie sul dietro mettendo la parte del motivo che devono combaciare sia dal davanti che del dietro conto 16 maglie e chiudo sia dal davanti che dal dietro quindi ripeto una volta che voi avete diviso la parte avanti con la parte dietro io ho fatto venire il motivo del dei ventaglietti sulla proprio su al centro della manica sulla manica due motivi avanti e adesso ho preso la circonferenza del polso e del braccio e calcolo 16 centi 16 maglie alte sul davanti e 16 maglie alte sul dietro e metto il segno e vi faccio vedere ecco qua occa ho contato 16 maglie alte sul davanti e 16 maglie alte dal dietro e da questa parte che va dalla parte del davanti rimangono 1 2 3 4 e sulla quinta ho messo il punto adesso devo fare prima un giro di maglie alte per pareggiare il tutto e qui anche faccio tre maglie alte sul sulle tre maglie alte una maglia alta al centro e poi di nuovo tre maglie allora partiamo in questo modo prendo il filo una volta che ho chiuso qui con il segno devo lavorare entro con l'uncinetto sia dal davanti che dal dietro e prendo tutte e due le le parti davanti e dietro e unisco con il filo entro sia dal davanti che dal dietro con il filo e faccio tre catenelle che la mia prima maglia alta 1 2 e 3 adesso giro in questo modo e faccio maglie alte su ogni maglia alta devo fare una maglia alta quindi mi ritrovo con 16 maglie alte devo fare le 16 maglie alte e le lavoro normalmente prendendo tutte e due le asole non come abbiamo fatto fino adesso prendendo solo l'asola da dietro e vado avanti e poi quando arrivo al ventaglietto vi faccio vedere come continuare sono arrivata dove ho il ventaglietto quindi sulle tre maglie alte faccio su ognuna una maglia alta questa è la prima vado a fianco una seconda maglia alta vado a fianco una terza maglia alta al centro ho le due catenelle però faccio una maglia alta e di nuovo da questa parte una maglia alta vado a fianco un'altra maglia alta è un'altra maglia alta adesso continuo con le 16 maglie alte vado a fianco una seconda maglia alta fino a terminare tutto il giro e poi iniziamo il giro i giri lavorando in maglia rilievo avanti e maglia alta rilievo dietro ci vediamo alla fine del giro arrivati alla fine del giro qui abbiamo unito la parte avanti con la parte dietro e dobbiamo chiudere adesso nella terza catenella con una maglia bassissima però invece di prenderla normalmente entro con l'uncinetto mettendo le 3 catenelle sull'uncinetto e faccio una maglia bassissima questo mi risulta già come una maglia alta presa rilievo avanti adesso faccio 3 catenelle 1 2 3 e devo andare nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta a rilievo dietro quindi entro con l'uncinetto sposto la maglia alta verso il dietro con l'uncinetto prendo il filo e continuo con una maglia alta questa sul davanti quindi la sol la maglia alta me la porto sull'uncinetto prendo il filo e di nuovo una maglia alta adesso maglia alta rilievo dietro quindi con l'uncinetto entro sul davanti e sposto la maglia alta verso il dietro e faccio una maglia alta qui maglia alta rilievo avanti quindi mi devo portare la maglia alta sull'uncinetto e vado avanti così per tutto il giro e devo continuare per io ho fatto un totale di 17 giri comunque andate avanti e poi faccio vedere come iniziare e terminare l'altro giro ho finito questo giro e chiudo dove ho iniziato con le 3 catenelle sempre prendendo la maglia alta in questo modo le 3 catenelle in questo modo e faccio una maglia bassissima e questa sempre risulta una maglia alta rilievo avanti di nuovo 3 catenelle 1 2 e 3 qui a fianco mi ritrovo la maglia alta rilievo dietro e sulla stessa maglia alta sottostante faccio la stessa maglia alta la maglia alta il rilievo dietro qui invece in avanti e la prendo la lavoro maglia alta rilievo avanti qui dietro e continuo così per la lunghezza del polsino che per me va bene ripeti ho fatto 17 giri se voi volete fare più giri potete farlo tranquillamente per quanto riguarda la pa l'apertura del davanti ho fatto 4 maglie alte sempre nella stessa maglia alta e una maglia bassa e inizio in questo modo quindi faccio da dove ho il collo ho fatto le 3 catenelle all'interno faccio altre 3 maglie alte questa è la seconda una terza maglia alta e una quarta maglia alta dove ho lo spazio della maglia alta successiva faccio una maglia bassa vado qui che ho lo spazio della maglia alta e faccio all'interno 4 maglie alte 1 2 3 e 4 a fianco che ho lo spazio dell'altra maglia alta faccio una maglia bassa qui 4 maglie alte vado avanti in questo modo fino a terminare tutto il giro e 4 e qui una maglia bassa di nuovo qui all'interno 4 maglie alte 1 2 3 e 4 ed ecco come si vede qua da fianco una maglia bassa e di nuovo a fianco dove ho lo spazio 4 maglie alte 1 2 3 e 4 una volta che abbiamo finito tutto errate il laterale se volete continuare continuate anche sotto oppure tagliate il filo e nascondete i fili detto tutto questo il mio tutorial finisce qui se vi è piaciuto mettete un like e mi raccomando condividete i miei video e se volete iscrivetevi al mio canale ci vediamo a presto con altri video tutorial grazie e ciao ciao